E' iniziata con questa e poi ho ricevuto un lavoro stabile. Sul contratto c'è scritto che è un terzo livello metalmeccanico, pari a 1.604. Lo devo incorniciare, lo devo applicare. Mi chiamo Davide Giannicelli, a lui io compio 40 anni, sono napoletano. Ho lavorato in ambiente aeronautico, sempre con l'agenzia interinale, ed erano sempre contratti determinati. Io cercavo lavoro e dicevo, no ma tu hai 40 anni, ma che ti posso dare? Ma come mi può dare? Dovevo farmi la conoscopia, un esame un po' particolare. Mia mamma doveva prestarmi i soldi. Mia mamma non ce li aveva, non sapevamo come fare. Ma non sapevo, sai quello del dire? Io queste analisi dovevo fare, non è che è un optional. Improvvisamente tutto è capitato come un regalo. Questo è stato un regalo, vi posso dire che è stato un regalo, perché non sono andato a fare nel viaggio, non sono andato chissà a fare che cosa. Questo mi ha aiutato a sopprire delle spese che dovevo fare. E da lì ho iniziato a pagare gli analisi. Poi dovevamo fare la spesa a casa. Diciamo, mamma vieni come andiamo. Pasta, pane, latte, biscotti per i bambini. Sto qua per rinunciare. Ovviamente non ho più diritto perché adesso il mio unico diritto è poter lavorare. Quindi lavoro e prendo lo stipendio. Ora posso vivere e posso comprare quello che voglio. Ma soprattutto fare dei regali a mia mamma, ai miei nipoti, che ne ho quasi 22. E quindi sono molto contento, molto contento. Cosa dirvi? Grazie. E se ho la possibilità di stringere la mano ad ognuno di voi, mi fa molto piacere. Grazie, grazie mille con il cuore. Grazie. 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 Grazie a te.